buongiorno allora un nuovo vlog vi faccio vedere delle novità vi faccio vedere i nuovi arrivati in famiglia che ovviamente sono nati il 12 di agosto e lo scoprirete in questo vlog in queste clip era una sorpresa perché non lo sapevo calcolate che il mio gatto maschio è stato sterilizzato il 6 giugno e pensavo di riuscire a non fargli fare un'altra cucciolata perché questa è una seconda cucciolata che ovviamente la mia gatta ha fatto per cui dato che non volevo che faceva la seconda cucciolata ho sterilizzato il mio gatto il maschio il problema è che il mio gatto maschio è riuscito lo stesso a farlo a fare la seconda cucciolata senza che io lo sapevo per cui quando prima che io sterilizzavo il mio gatto sono riusciti a fare un'altra cucciolata per cui dopo un mese dopo anzi dopo due mesi io ho scoperto che la mia gatta era incinta l'ho scoperto a luglio mi sembra sì a luglio e non lo sapevo per questo sono stata un po sorpreso detto no e niente per cui adesso vi farò vedere i nuovi gattini che ovviamente andranno via tutti diciamo che adesso sono quattro prima erano cinque adesso sono quattro cioè prima in senso che la cucciolata di prima erano cinque gattini invece adesso la cucciolata la seconda cucciolata ovviamente sono quattro gattini e per cui dato che io ho già tre gatti non posso tenerne un altro e anche perché troppo impegna troppo tenerli sono troppo belli ma non posso tenerli per cui cercherò di darle a qualcuno che gli piace gli animali che gli interessano e niente speriamo di riuscire a darli via e niente io vi faccio le faccio vedere vi faccio vedere il clip che ho fatto dal 12 di agosto fino ovviamente fino a quando riesco per non ci saranno altri vlog uguali per come si dice uguali per i gattini uguali sono in pappina e niente se siete per caso nella zona di como che abitate più o meno nelle mie zone eccetera e volete un gattino che vi piace un gattino che siete amanti degli animali contattatemi in privato che io ve lo do vi do quelli che ho quelli che rimangono per il momento non c'è nessuno che li prende perché ovviamente sono piccoli cioè in senso prenderli in senso prenotarli perché prima la gente me li deve prenotare poi quando avranno due mesi 60 giorni li posso dar via adesso sono piccoli questo vlog lo sto registrando il 18 di agosto le altre clip saranno ovviamente tutte diverse nei giorni diversi adesso hanno cinque giorni hanno quasi aperto gli occhi il 18 di agosto e quasi per cui calcolate che dopo il diecimo giorno dovrebbero essere tutti con gli occhi aperti e per cui comunque niente vi faccio vedere i gattini e vi faccio questo vlog vediamo come come andare avanti ma credo che questo logo lo dedico di più ai gattini perché così almeno per ricordo ciò questi video e niente ci vediamo dopo buona visione buone clip ho portato via un po di figli mamma che sono pronti oggi è il 12 agosto 2024 no ho portato via un po di figli mamma che sono pronti insomma ho portato via un po di figli mamma отнош Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.